Kevin De Bruyne ha appena detto, quando gli abbiamo chiesto se la Champions League è un sogno o un'ossessione per il Manchester City, ha detto forse entrambe le cose. Lei come la vede? È un sogno. Sicuramente un sogno. Arrivare a determinati traguardi è un sogno. C'è sempre una certa percentuale di ossessione quando si vogliono raggiungere i traguardi. È una cosa positiva avere un desiderio così forte, però fondamentalmente è un sogno. Siete strafavoriti per la partita di domani. Non è solita questa cosa per una finale europea. Come si fa a mantenere i giocatori concentrati in questi casi? Nello stesso modo in cui prepariamo ogni singola partita della stagione. Si vede quanta gente c'è qui in questa sala per la conferenza stampa. Molto di più. Ma non importa questo, indipendentemente dalla competizione. Non controllo le opinioni della gente sulle partite. Io mi concentro solo su ciò che dobbiamo fare. Quindi ho cercato di studiare l'Inter nel miglior modo possibile per capire come giocano. E poi alla fine è una partita di calcio. Alla fine vincerà la squadra che giocherà meglio nei 90 minuti. Se loro vincono, allora diventano loro i favoriti. Indipendentemente da ciò che è successo nella stagione. Se vediamo la storia di questa competizione, l'Inter è una squadra più grande del City. Ma questo non importa. Non ci sono favoriti o non favoriti. L'importante è che domani alle 10 di sera, orario di Istanbul, si farà del proprio meglio. E questo farà la differenza. I tifosi del City hanno sempre parlato molto di questa partita in finale. Però Gundogan ha detto, per esempio, che l'atmosfera ha veramente aiutato molto per la finale della FK Wembley. Sono d'accordo con te. È un giorno da celebrare. Per i tifosi dell'Inter, per i tifosi del Manchester City. Entrambi i tifosi sono contenti. Celebrano questo passo, l'aver raggiunto la finale. Siamo in questa finale, in questa competizione incredibile. Quindi c'è una grande atmosfera e siamo qui per fare del nostro meglio. Chiaramente ci aspettiamo sostegno durante la partita. So che è difficile parlare prima della partita, ma quale credi che saranno le chiavi della partita? Quali saranno gli fattori chiavi? Quali saranno gli fattori più difficili da affrontare? Ma ce ne sono talmente tanti. L'Inter non sono solo una squadra che difende. Non è vero che le squadre italiane difendono e basta. Sì, sanno anche difendere. Ma non si nervosiscono mai. Il modo in cui il portiere esce con la palla, il modo in cui giocano con Darmian, Acerbi, Bastoni... Sono molto efficaci e possono essere molto pericolosi con gli attaccanti, che siano Lukaku, Lautaro, Dzeko o Correa. Sono in grado di passarsi bene la palla tra il numero 7 e il numero 10. Sono molto bravi nel possesso palla. Possono attaccarti nella zona centrale, possono attaccarti sulle fasce. È difficile controllarli. Se si sbaglia qualcosa, si può far male. Noi cercheremo di difendere nel modo migliore possibile, con una difesa alta. E cercheremo di fare del nostro meglio. 9,6 gol negli ultimi 13 partite. Non ha detto perché è così basso il livello. Non sono qui per parlare delle medie di un giocatore, quanto può segnare. Insomma, io non ho dubbi sul fatto che Haaland ci aiuterà domani, sarà pronto per aiutarci a vincere la Champions League domani. Tu sei una fonte di ispirazione per il movimento giovanile di calcistico arabo, per tutti coloro che vogliono diventare allenatori. Quali sono i principi fondamentali alla base del tuo successo? Qual è il tuo messaggio per tutti i giovani allenatori nel mondo arabo che vogliono seguire il tuo percorso? Bisogna avere dei buoni giocatori. Il mio successo ha avuto Messi in passato, ho Haaland adesso. Questo è il motivo del mio successo, non sto scherzando. È la verità. Come si ottiene il meglio dai propri giocatori? Bisogna far capire loro che da soli non ce la possono fare. Bisogna far capire loro che siamo in una squadra forte, abbiamo delle idee valide e tutti coloro che seguono le idee saranno al posto giusto. Chi non lo fa non ci sarà. Tutti quelli che hanno avuto successo in passato e hanno avuto tanto successo è perché ha delle istituzioni forti, che hanno dei grandi giocatori. Non c'è mai stato un allenatore che ha segnato un gol. Dove anni fa avete perso la finale contro il Chelsea, quali lezioni avete imparato da quell'esperienza? Cosa ti fa pensare che ci sarà un esito diverso? Vorrei poterti dire quale lezioni abbiamo imparato, ma non le so. Non lo so perché era una partita diversa, tante cose diverse sono accadute, abbiamo diversi giocatori, giocatori diversi. A volte pensavamo di fare un'ottima partita contro il Chelsea, volevamo giocare in certo modo e non ha funzionato. Per questo tutti poi hanno detto che c'è stato un approccio sbagliato e domani stessa cosa. Abbiamo un piano che comunicarà ai giocatori, abbiamo un modo, avremo un approccio, poi come andrà si vedrà. Posso dire che siamo pronti. L'impressione, la sensazione è che siamo pronti, i giocatori ci metteranno tutto, assolutamente tutto. Quindi siamo pronti per fare del nostro meglio. Vorrei chiederti a livello tattico quanto cambia nel fronteggiare una squadra che ha due attaccanti più centrali, come l'Inter, rispetto ad altre squadre che giocano con un attaccante e comunque altri giocatori più larghi. Qual è il livello di preparazione? Come affronterete anche Lautaro in questa partita? Quando avete due giocatori, due attaccanti, un attaccante e l'Inter che ha cinque difensori? Sì, la cosa cambia. Questo cambierà i nostri cambi di fase, il nostro modo di attaccare. Non c'è molto da dire di Lautaro Martins. Vedete come ha giocato ultimamente, è un campione del mondo. Quindi è veramente un giocatore speciale, è un ottimo finalizzatore, è sempre pronto ad attaccarti. Entrambe le squadre hanno raggiunto la finale di Champions League, quindi significa che abbiamo fatto qualcosa di buono. In una finale i dettagli possono essere decisivi, ci sono 90 minuti per decidere una partita, una coppa. Quale equilibrio ci può essere tra seguire un programma, le regole prestabilite e libertà per i giocatori? Seguire un programma ci dà stabilità. Il piano, come prepari la partita può aiutare in certi momenti della partita, ti dà quella sicurezza in più. È importante quando si gioca una finale sapere esattamente cosa devi fare e questo dà stabilità. E ci sono dei momenti in cui le partite impazziscono. Magari una partita che si mette male, allora andiamo a inserire altri attaccanti, oppure dobbiamo difendere maggiormente negli ultimi minuti, allora vado con sette difensori centrali. Ci sono dei momenti in cui gli schemi saltano del tutto, lì c'è solo la voglia di vincere. Di nuovo, dipende da come si evolve la partita. All'inizio non ci credo molto, bisogna dire ai giocatori fai tutto quello che ti pare. All'inizio ci deve essere un piano, un approccio, ci deve essere controllo, bisogna difendere alto o difendere basso, bisogna essere pazienti. In queste partite bisogna essere pazienti. Pensare che se stai 0-0 stai perdendo è sbagliato. In una squadra italiana magari che sta 0-0 pensa che stanno vincendo e non stanno vincendo, è 0-0. E quindi bisogna rimanere stabili, avere stabilità. In questo momento sì, c'è la libertà individuale, ma bisogna garantire stabilità. E nei momenti cruciali, negativi, bisogna fare quel passo in più. E questo avverrà. Però non si sa cosa avverrà nel calcio. Poi trovate a 0-0, sotto di un gol, avanti di un gol. Ma in tutte queste occasioni bisogna trovare una stabilità. Ultima domanda. Anzitutto, congratulazioni e buona fortuna per domani. Quali sono i giocatori in Inter più per l'Inter secondo? Secondo me Onana è un portiere eccezionale che va avanti anche con la palla. E poi tutta la difesa, con bastoni, mostrano grande qualità anche nel far arrivare la palla agli attaccanti. Fare quel passo in più, riescono sempre a farlo. Quindi dobbiamo cercare di difendere. A volte, non so come, ma a volte dobbiamo cercare di difenderci da questi collegamenti, questi passaggi. E bisogna anche focalizzare sul possesso palla. A volte è difficile attaccare, perché dietro hanno tre giocatori che presidiano. E domani bisognerà trovare una soluzione per essere più efficaci nel creare loro problemi. Questo è il nostro obiettivo. Grazie. Grazie.